www.caffiblitz.shop svizzera. Le capsule caffè Borbone Don Carlo permettono di assaporare sulla macchina la vazza a modo mio un ottimo espresso napoletano, il tipico caffè made in Napoli. Le cialde sono 100% compatibili con le macchinette del caffè a modo mio, consulta la tabella qui sopra con tutte le macchine su cui possono essere utilizzate. Visita adesso www.caffiblitz.shop svizzera.